Dottoressa Evelina Flachi, esperta di alimentazione, quanto è importante saper scegliere cosa mangiare nell'ambito di un equilibrio più generale dell'organismo, e qui stiamo parlando di donne, quindi dell'organismo femminile in particolare? Diciamo che dall'adolescenza alla menopausa fino alla più tardetà è importante scegliere la qualità dei cibi che noi mettiamo sulla nostra tavola e soprattutto mantenerla anche con dei metodi di cottura adatti per esaltare i principi attivi che oggi molti cibi contengono, proprio perché l'aspetto funzionale dell'alimento può interagire con il nostro organismo migliorandone le funzioni, proteggendolo, come se in dissonanza con le nostre individuali esigenze e lo stato di salute può aggravarle. Curare un equilibrio psicologico e fisico è un punto di partenza per poter affrontare le sfide che per le donne sono molto complesse a livello professionale e personale, quello che fa Progetto Donne Futuro è investire sul talento femminile, lei cosa ne pensa di questa iniziativa? Io sono pienamente d'accordo anche perché da sempre considero le cinque forme di benessere per la donna che sono ovviamente quello fisico, quello sociale, quello intellettuale, quello spirituale, quello emozionale. Se noi donne riusciamo a concentrarci su un equilibrio di queste forme di benessere, riusciremo ad affrontare i disagi e le difficoltà date anche dalle fasi ormonali a cui siamo sottoposte, perché con il buon umore si è visto, si aumentano anche le nostre difese, si entra in un circuito positivo di stimolazione endocrina che favorisce ovviamente questo periodo, queste difficoltà. In particolare questa iniziativa è dell'avvocato Cristina Rossello, cosa pensa? È un'iniziativa che esposo con grande piacere e quindi condivido il proseguimento anche di questo lavoro nel campo dell'alimentazione e del benessere.